Sei proprio sul tuo personaggio Ci schiacci sopra e vai tutto a destra C'è scritto modifiche di pagare C'è dai soldi Come no? Porco c***o Come no? Come no? Lui è più pro Eccoci il cosetto ma io so Prezzo Attenzione Vabbè comunque hai visto modifiche gamertog? Sì Acabo E ragazzi ha 15 di fila E non è in mezzo di fila E non è in mezzo di fila Sì 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 Sì